ben trovati e rieccomi qui a commentare un'altra notizia ballando con le stelle si è concluso ieri sera il noto programma condotto ineguagliabilmente dalla bella e brava milly carlucci che ha visto gareggiare tra loro diversi personaggi dello spettacolo alcuni veramente bravi altri che avrebbero forse potuto rinunciare ad esibirsi ma che comunque i fini dello spettacolo hanno contribuito in simpatica maniera non è stato invece il caso della bravissima e anche bella giussi versace che classificandosi sempre tra le prime posizioni ieri sera spopolato e vinto la finalissima in coppia con il bravissimo raimondo todaro cari amanti del ballo si è conclusa così ballando con le stelle 2014 ci toccherà aspettare la prossima stagione per poter nuovamente gioire divertirci con i concorrenti delle nuove sfide di ballo non mi resta a questo punto che darvi saluti e darci l'appuntamento per le prossime notizie